salve a tutti vediamo oggi una delle grandi novità a livello gaming e non solo il pad in vetro di skypad l'ultima versione stavolta in formato excel prima da più piccolo e con superficie rivista riveduta il chiaramente i paus in vetro danno questo di effetto una scorrevolezza che non ha pari però la cosa molto interessante è che non non si perde il controllo ovvero sia per farvi un esempio su call of duty ho dovuto addirittura alzare la sensibilità in game perché risultava lento il tracking del sesso del sensore del sensore quindi questo cosa ci dice ci dice che nonostante si abbia una scorrevolezza senza pari magari per alcune potrebbe essere anche troppo abituato al senso potrebbe essere anche per quanto ho visto io nel mio caso pur avendo questa scorrevolezza i micro movimenti e il tracking pixel by pixel è assurdo è incredibile davvero cioè si ha una maggiore sensazione di controllo anche dei minimi movimenti cosa che spesso non succede con gli altri pad soprattutto perché non hanno una scorrevolezza fluida e lineare come questo come vedete con il mio movimento si può fare anche piccolissimi anche frazioni di millimetro lo fa in maniera fluida non con scatti a volte come succede sul tessuto che c'è intoppi che c'è in se non si inceppa qui la scorrevolezza è fluida lineare senza nessun tentennia come se no stu stutter allora una cosa che e vi dico che non è facile spiegarlo a voce la superficie è ruvida non è liscia poi lo vedete anche nella foto ho cercato di fare delle macro per farvelo capire l'unica cosa che non posso dirvi adesso è il livello di usura dei piedini dei mouse questo me lo direi il tempo e casomai ragionerò e lo aggiungerò poi nel post un'altra cosa che all'inizio appena appena provato mi dava un po di strano era che con il fu soprattutto con questi bianchi per dire un certo per cento ptf bianco mi dava sentivo che qualsiasi bruscolino grattava sulla superficie e chiaramente dava fastidio anche sulla scorrevolezza io poi sono molto fissato per questo ossessivo per questo per cui insomma era rimasto un pochino così detto sì va bene tutto però insomma l'esperienza non è che ottimale questo ecco facendoci un paio di giorni giocando un paio di giorni e probabilmente rodando anche pedini situazione totalmente cambiata siamo su un livello che qualsiasi in tessuto non riuscirà mai mentre ecco diciamo che quelli in fabric cordura come il mio amato endorfi se la giocano bene perché nonostante non abbiano questa linearità di scorrevolezza e senza con pochissimo intoppo qualcosina lo hanno cosa che qui non succede poi non hanno usura si lavano con un panno l'unica cosa si attenzione perché chiaramente se se ci mangiate sopra minuzioni li sentite tutti qualsiasi io poi lo pulisco anche tre quattro volte al giorno ma non mi interessa perché ho bisogno di sentire andare veloce una cosa che magari potete affastire a qualcuno è anche il rumore però se si gioca con le cuffie sapete bene questo non si sente poi insomma dipende anche dal tipo di pedini può diminuire o aumentare costicchia però secondo me li vale tutti grazie a skypad per questa opportunità di recensire questo questo pad e grazie a voi per avermi seguito spero di avervi dato le indicazioni corrette grazie scusatemi avevo concluso ma devo aggiungere solo una cosa che mi ero scordato prima il pad rimane assolutamente fisso e stabile quasi incollato sulla superficie grazie a questi supporti in silicone è praticamente incollato e anche eccoli questo è una cosa che non prima di spostarsi non lo avrete di sicuro ora ho concluso davvero